Salve, ci sono un altro che avevamo l'appoggio delle istituzioni e questo oggi come oggi si è un gran vantaggio Torniamo alla gara, da dietro ti voglio bella Soprattutto considerando il comitato anti-clamp Ma si, dopo faremo tutta una discussione La classe action contro le clamp Allora, quasi scritto Il mio papà che aveva votato alcun altro Allora questo Allora devi dire ste robe Allora questo è un suo modo per ridimerci Va bene, vi parlo Il segale è di mudo